Cerchi idee per riutilizzare scatole e barattoli di latta? Ciao, io sono Letizia, creativa del canale Vivi con Letizia dove puoi trovare tantissimi progetti di riciclo creativo, fai da te e trucchetti per casa. Nel video di oggi ti mostro ben 7 idee per riutilizzare in vari modi le tue scatole o i barattoli di latta. Se ti piace un tutorial come questo, ti consiglio di iscriverti adesso al mio canale cliccando su iscriviti e sulla campanella per non perderti nessuno dei prossimi video. Se invece questo video non ti piace lasciami pure la tua critica costruttiva nei commenti. Ora passiamo al tutorial, continua a guardare! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!